Alice Bellandi vince la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria dei 7-8 kg femminile trionfando in finale contro l'atleta israeliana Inbar Lanier. I primi due minuti della sfida decisiva passano in Danny con l'avversario dell'Azzurra che provoca e viene anche ammonita. Nel momento clou Alice piazza quasi dal nulla il suo Vazari che porta poi la sua avversaria anche al terzo cartellino giallo e alla fine della partita. L'Italia può finalmente festeggiare una medaglia d'oro nel Judo, la quindicesima in totale fino a ora di questa spedizione olimpica. Alice è felice di gioia, abbraccia e bacia la sua compagna. Se volete vedere il video dell'incontro cliccate nel link in descrizione oppure nel primo commento di questo video e buona visione. Ciao!